Probabilmente se tutti i consigli comunali fossero registrati, come chiede da sempre il buon Beppe Grillo, non ci si ritroverebbe davanti a situazioni del genere, dove discernere tra verità e gioco politico resta un compito delegato al buon senso del cittadino. Noi, da organo di informazione possiamo limitarci a riportare le due campane, una suonata dal capogruppo di svolta popolare, lista di opposizione nel civico consesso di Monte di Procida, e l'altra trascritta nei due manifesti a firma del sindaco Iannuzzi e dei consiglieri di maggioranza, che hanno tappezzato le mura montesi, in attesa di ascoltarne la viva voce che non siamo riusciti a raggiungere. Un vero e proprio giallo, quello del Consiglio svoltosi lunedì scorso, con l'opposizione ad accusare Iannuzzi di essere letteralmente fuggito dall'aula, portando via con sé il Presidente del Consiglio, di fatto impedendo la conclusione dei lavori. Sicuramente è un Consiglio comunale storico, che è anche qualcosa di clamoroso. Consiglio comunale purtroppo che porta novità solo in negativo, perché la maggioranza ha deciso clamorosamente di abbandonare l'aula, avendo a nostro avviso constatato di non avere più i numeri per imporre la propria forza. Voi sapete che nei consigli comunali, al di sotto dei 15 mila abitanti, il legislatore ha attribuito delle maggioranze schiaccianti, proprio per dare più stabilità. Il sindaco con questa maggioranza ha fatto il bello e il cattivo tempo negli anni. Adesso che si trovava 8 e 7 e purtroppo si approvava un documento su acqua morta, molto costruttivo e molto propositivo, quando si è visto in minoranza è scappato, non ha avuto altro da fare, altro da dire. E quindi come un bambino che quando la partita di calcio non va bene porta via anche il pallone, è andato via e con sé ha portato il Presidente del Consiglio ed anche il segretario comunale, lasciandoci tutti di stucco. Una versione che, se fosse confermata, avrebbe dell'incredibile. Tanto appare ingiustificata e fuori da ogni logica della purtanto bizzarra politica locale. È un atteggiamento ingiustificabile, la politica non dovrebbe rifuggire dalle sue responsabilità e soprattutto un politico navigato come Iannuzzi, con 30 anni alle spalle, in cui ha visto mari tempestosi politicamente parlando, non può dirsi spaventato di aver sentito delle parole o delle offese che poi assolutamente non ci sono state, perché noi chiedevamo la votazione di un documento e loro praticamente prendevano tempo con strumenti dilatori. Quindi è qualcosa di assurdo e ingiustificabile. L'opposizione non ha fatto a tempo a denunciare questo singolare episodio, che già sindaco e maggioranza passavano al contrattacco con la loro verità. Isteria dei gruppi di opposizione, aggressione politica, un comportamento inaccettabile per cui l'intera maggioranza, per senso di responsabilità e per evitare ulteriori incidenti, ha dovuto abbandonare l'aula, si legge nel manifesto. Ai Montesi il compito di giudicare quale sia la versione più credibile.